Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti subito per ricevere le notifiche di nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle novità. Cupmainers Napoli, l'ADL offre 37 milioni più bonus, la storia. Gli azzurri ci hanno provato, ma l'Atalanta non ha voluto privarsi di uno dei suoi uomini migliori, pilastro della squadra di Gasperini. Town Cupmainers è l'uomo dai gol pesanti. Tre punti come quello segnato ieri al Bentegodi nella complicata partita contro il Verona. L'olandese si sta completando in tutto e per tutto sotto la guida di Gasperini, il rapporto tra i due è ottimo. E diventa il leader tecnico indiscusso dell'Atalanta e anche una guida per i nuovi arrivati nello spogliatoio. Non è un caso che lo avessero nel mirino diverse bighe del nostro campionato, Napoli compresa. L'Atalanta sa sempre come muoversi sul mercato, anticipando la concorrenza. L'estate scorsa sono riusciti a bloccare Cupmainers a luglio, rinnovandogli il contratto fino al 2027 con un adeguamento salariale a 2,8 milioni di euro netti a stagione. Una mossa strategica, come riporta Calciomercato.com, per avere ancora più forza, tanto che poche settimane dopo riuscirono a rifiutare un'offerta da 37 milioni più bonus presentata dal Napoli. Il club azzurro ci riproverà nei prossimi mesi, Town è pronto a essere protagonista anche in Champions League. E chissà, magari la prossima stagione giocherà contro l'Atalanta.